Uniti si vince, uniti si può. È questo lo slogan che più volte ha riecheggiato nel corso della cerimonia di apertura della seconda edizione del trofeo GESIS, una partita per la vita, che si è presentato ufficialmente al pubblico venerdì 15 marzo. La sala Tirreno della Regione Lazio è stata letteralmente presa d'assalto da tutte le squadre partecipanti al torneo e da tutte le illustri personalità che nel corso degli anni si sono legate al GESIS e dalla sua nobile causa. Sì, perché come dicevamo in apertura, solo l'unione delle componenti porta grandi risultati. Così, anche per questa edizione, l'organismo di Eleuteri e Laureti si è legato indissolubilmente alla Fondazione Bambino Gesù per sostenere in maniera solidale e benefica quei ragazzi meno fortunati di altri. La presentazione, condotta egregiamente dal presidente GESIS Fabio Eleuteri, si è aperta con le parole di Walter De Bardi e le note di De Gregori della leva Calcistica del 68, canzone che De Bardi ha parafrasato per i ragazzi in sala, in modo da rendere più chiaro il messaggio che il cantatore romano ha voluto lasciare ai posteri. Dopo questa introduzione, si entra nel vivo della serata con l'intervento della consigliera comunale Svetlana Celli, pioniera del progetto GESIS, insieme agli attuali dirigenti. La Celli ha rimarcato l'importanza della cultura sportiva nella formazione dei giovani, valore che le aiuta a crescere prima come buoni cittadini e poi come sportivi. Dopo aver ricordato Massimo Romagnoli con un commovente pensiero, la Celli lascia la parola al vicepresidente GESIS Daniele Laureti, il quale introduce la manifestazione, rimarcando nei tratti principali. La seconda edizione, quando comunque si ripete una manifestazione del genere e si riscuote un successo così, sicuramente è qualcosa che ci fa veramente onore e ci rende soddisfatti tutto il lavoro che stiamo facendo, sia sul piano sportivo ma anche sul piano sociale legato all'impiantistica. C'erano soprattutto le famiglie, che è una cosa bellissima vedere anche i genitori insieme ai ragazzi assistere a questa presentazione, quindi è stato veramente un inizio veramente degno di una grande manifestazione. A seguire, gli interventi dei rappresentanti della Regione Lazio, con Gianluca Quadrane e Roberto Tavani, che si scambiano il testimone per ringraziare l'organizzazione, le istituzioni e di partner della manifestazione. È tutto bene e tutto bello. Questa è la casa delle cittadine e dei cittadini della Regione Lazio e quindi abbiamo ospitato questi bambini, queste bambine, le loro famiglie con grande piacere. Il torneo già in sé ha una sua bellezza e una sua positività e poi, lo ricordavi tu, c'è la causa benefica a favore del bambino Gesù che rende ancora più sana questa competizione perché oltre ad affermare i valori dello sport, afferma anche i valori della solidarietà umana. Siamo felicissimi di questa iniziativa, siamo felicissimi che tante squadre del calcio giovanile della nostra Regione si siano impossessate della Sala Tevere. Questa è la casa di tutti i cittadini del Lazio e quindi l'invito è sempre aperto non solo a voi, a tutte le associazioni sportive che vogliano richiederci questi spazi che, ripeto, sono spazi pubblici e di tutti i cittadini. Per quanto riguarda l'iniziativa io non ho più parole di elogio per questa bellissima cosa perché il GESIS già il lavoro che fa per la sicurezza degli impianti è un lavoro davvero di interesse pubblico. Poi addirittura che si metta ad organizzare un torneo, associando questo torneo alla più grande eccellenza forse della sanità regionale che è il Bambin Gesù che ha fatto tantissimi interventi su tanti bambini, ha salvato tante vite, ha rimesso a posto tanti arti. Che dire, davvero complimenti, non mancheremo nel modo e nelle forme che potremo sosterremo questo progetto oggi e domani. La girandola degli interventi istituzionali termina con quello del Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario, ancora una volta stupito dall'impegno profuso dal GESIS. Ancora una volta ci troviamo a fare i complimenti al GESIS che conferma la proattività dell'associazione sotto tutti i punti di vista, quindi sia per quanto riguarda la gestione degli impianti, sia per quanto riguarda la produzione di eventi e quindi ci fa molto piacere ovviamente come al solito essere al fianco dell'associazione. Arriveremo sicuramente in finale a divertirci e stiamo pensando anche eventualmente di scendere in campo con una squadra mista dei politici, quindi vediamo un po' come andrà. Dopo le parole del Presidente Diario ci avviamo verso la descrizione tecnica della manifestazione con i Presidenti Maurizio Perazzolo e Paola Nedda che illustrano al pubblico i progetti che prenderanno vita presso i loro impianti, le cupole e il palatorrino. I due Presidenti hanno promosso due iniziative che vanno oltre il calcio, abbracciando così altre discipline cosiddette minori, proprio nello stile del GESIS. Il GESIS ha nell'anima proprio il fatto che si occupi di sport, quindi è vero che il calcio comunque è lo sport nazionale, è vero che il GESIS viene a livello diciamo proprio di indole dal calcio, ma il GESIS è sport, quindi anche il bambino che magari non è adatto a fare calcio può fare un'altra attività, purché faccia sport e magari possibilmente si allontano dalla strada. Prima di passare agli altri impianti è il turno del partner d'eccezione della manifestazione, la Fondazione Bambino Gesù. Nel suo intervento Silvia Crotali ringrazia il GESIS per i risultati ottenuti lo scorso anno e presenta il progetto Frammenti promosso proprio dalla sua fondazione. Ancora di nuovo insieme per un grande progetto, un progetto dedicato all'accoglienza e all'accoglienza e alla cura dei bambini che noi definiamo umanitari, l'accoglienza alle famiglie, alle persone che hanno più bisogno del nostro aiuto, perché quando un bambino si ammala si ammala un'intera famiglia, quindi noi non possiamo esimerci dall'aiutare e anche quest'anno la GESIS con grande generosità si è messa al nostro fianco. Ringraziamento alla GESIS anche quest'anno al nostro fianco e che insieme speriamo di raggiungere un grande obiettivo, un grande obiettivo che è quello del raggiungimento dello scopo che ci siamo prefissati e un grande obiettivo sportivo. Grazie. La fondazione penso sia un grande punto di partenza, perché come diceva anche il direttore Raffaele Minichino, associare a una manifestazione sportiva, anche dargli un valore sociale del genere, penso sia un connubio veramente importante per la città di Roma, per tutte le società, le scuole calcio che hanno aderito a questa manifestazione, per le famiglie, per tutti, quindi è una partita che giochiamo tutti insieme. Quest'anno abbiamo anche la possibilità di fare direttamente anche con le famiglie delle società, lo scorso anno è stata una partecipazione molto limitata soltanto alle società, quest'anno abbiamo un IBAN dedicato proprio della fondazione Bambino Gesù a cui anche le famiglie dei giocatori, dei partecipanti di tutto il torneo avranno la possibilità di fare una donazione e come nell'indole del Gesis l'unione fa la forza, se anche un piccolo contributo di ogni famiglia potrebbe essere un grande aiuto per l'ospedale Bambino Gesù. Dopo di lei parola ai presidenti degli impianti che ospederanno la Kermess, Alessio Di Curso dell'Atletico 2000, Mauro Esposito della Spessa Artiglio, Mimmo Gallio del Ponte di Nona e Ugo Pambianchi dello Stadio delle Tre Fontane. Delle eccellenze, quindi impianti pubblici dove si gioca bene, ecco abbiamo visto spalti da 3.000 persone, quindi anzi approfitto, spero che ci siano tanti gli spettatori che vorranno venire a fare il tifo per i finalisti e quindi ci sarà da divertirsi. A seguire microfono al presidente dell'Aex regionale Massimo Zibellini e al direttore di Sport in Oro Raffaele Minichino, il quale rimarca l'abbinamento con il Gesis e l'importanza della trasmissione Islo per tutto il movimento. Ci avviamo verso la parte clou della serata, quella delle premiazioni, ma prima largo al trailer di presentazione del torneo. Dopo il filmato, la consegna delle targhe di ringraziamento a tutti i relatori che hanno partecipato alla presentazione e dagli sponsor della manifestazione come Repower e Siss in pianti sportivi. Per concludere, targa di ringraziamento anche per tutte le squadre partecipanti, un messaggio simbolico che rappresenta la vittoria di tutte le componenti unite nello sport. Straordinario, la partecipazione è stata veramente di massa, come si suol dire, quindi mi è piaciuta la partecipazione di tutte le squadre, anche i ragazzi, che è difficile un pochino mantenere le attenzioni dei ragazzi, stavano lì ad ascoltare quello che ognuno di noi aveva da dire su questo trofeo. E' veramente una cosa straordinaria l'affetto e la partecipazione di tutte le società, comprese Roma e Lazio, e di tutte le autorità che erano presenti alla presentazione di questo trofeo. Sempre parlare di rete, rete, rete. Noi veramente cerchiamo di farla la rete con quelli che poi quotidianamente si occupano di sport, che ne parlano, che lo raccontano, lo esaltano, lo rendono appetibile per tante ragazze e per tanti ragazzi che invece di stare per strada a bichellonare trovano in un impianto sportivo gestito bene e di questo ringraziamo il GESIS e ringraziamo chi quotidianamente fa questo lavoro. Loro lì trovano una casa appunto per crescere insieme ad altri e ad altre e conoscere sia le vittorie che le sconfitte. Questo è stato direi sintomo di intelligenza perché quando le istituzioni indipendentemente dalle correnti politiche si uniscono e sostengono un'iniziativa del genere significa che comunque la politica sa essere anche così sostenitrice di valori importanti veramente e non così in maniera superflua. Quindi un grosso anche risultato questo, vedere appunto tutte le amministrazioni qui sedute al banco dei relatori e soprattutto ecco i messaggi che hanno proferito alla gente che era presente sono stati significativi e importanti per il futuro del calcio ma non solo dello sport in generale perché il GESIS non ci scordiamo che non è solo calcio ma faremo anche tornei dedicati a pattinaggio a rodelle, nuoto, multidiscipline, insomma tanto, tanto sport per questa città. Con l'ultimo filmato dedicato al palcoscenico della finalissima ci diamo l'appuntamento all'11 maggio quando il torneo aprirà i battenti con le gare sui campi e proprio da lì partirà la caccia alla Lazio campione in carica. Un ricordo bellissimo candito sicuramente dall'importanza dell'evento, l'importanza del carattere sociale che sta dietro al trofeo per i bambini che soffrono per la fondazione del Bambin Gesù in questa cornice meravigliosa del Tre Fontane dove l'anno scorso anche il tempo ci ha graziato, sono state veramente delle giornate fantastiche. Venendo dalla parte tecnica la Lazio entrerà in una fase successiva del torneo ma che livello avete trovato e che livello troverete secondo voi in queste squadre anche perché lo scorso anno contro ogni pronostico avete trovato in finale il Virtus Bracciano quindi segno che la qualità c'è. Sì, è un torneo, una manifestazione dove comunque la qualità tecnica non manca, anzi è stata la riprova la scorsa stagione dove anche la finale da noi giocate, la semifinale stessa sono state partite molto combattute fino all'ultimo minuto. Anche quest'anno soprattutto per i nostri ragazzi che giocano un anno sotto età e a questa età si fa sentire soprattutto a livello fisico sarà dura ma ce la metteranno tutta. Il mio augurio è che possa essere come lo scorso anno una manifestazione di sport in cui i ragazzi si divertono fino all'ultima partita sia vinta sia persa. Diciamo l'altro giorno a dei ragazzi, ragazzi non c'è vittoria o sconfitta, quando vinci vinci, quando perdi dovresti imparare qualcosa quindi anche nella sconfitta dobbiamo trovare il lato ottimistico della vita diciamo. Appuntamento alla finalissima in un impianto splendido della nostra regione, lo stadio delle Tre Fontane. Dove speriamo di poter portare il presidente Zingaretti per le premiazioni, sono certo che ci tiene moltissimo e faremo di tutto per fare in modo che sia lui direttamente a premiare i ragazzi e le squadre vincitrici.